Un reparto riqualificato corsie che promettono di aiutare chi soffre di patologie oculari. È il nuovo reparto di oculistica inaugurato nell'ospedale di Miccoli di Barletta. L'investimento, pari a 170.000 euro, ha consentito di rinnovare stanze e strumentazioni di un reparto molto attivo. A confermarlo i numeri, più di 2.000 interventi ogni anno e quasi 700 i pazienti con maculopatia seguiti e che ora possono contare su un arco sterile. Questo arco sterile che crea delle condizioni di sterilità per poter eseguire la cura delle maculopatie molte delle quali sono legate all'età e che richiedono una serie di iniezioni a carattere mensile da poter effettuare. Teniamo conto che questa è una patologia emergente. Ci sono circa 19.000 pazienti annui in Puglia che vanno incontro a questo tipo di problema. Ora, avere a disposizione una strumentazione del genere significa velocizzare, aumentare il numero di trattamenti e decongestionare allo stesso tempo la piattaforma operatoria generale, destinandola a interventi di alta complessità. I lavori, durati otto mesi, non hanno fermato le attività chirurgiche e ambulatoriali che ora possono contare su spazi adeguati per gestire al meglio diagnosi e cure. La riqualificazione importante che è stata avviata otto mesi fa e che ci porta oggi a questo importante risultato quindi un reparto interamente rifunzionalizzato e riqualificato che ci consente di poter prendere in carico i pazienti in modo più adeguato, in ambienti più adeguati e anche con delle apparecchiature in grado di offrire un servizio sempre più efficiente.